il pensiero principale nel cantico era che sotto le sue ali siamo al sicuro è proprio così meraviglioso che dio chiama fuori da ogni popolo lingua e nazione ed oggi è realmente ad impiuto letteralmente ad impiuto essi verranno dall'est e dall'ovest forse dovrebbero alzarsi tutti in piedi quelli che sono qui oggi il nostro fratello dall'australia i nostri fratelli dal canada dagli stati uniti dai paesi dell'africa per favore alzatevi in piedi tutti voi che siete qui dai paesi lontani qui c'è il nostro fratello dall'australia lì ne abbiamo due si possa dio benedirvi dio benedica il nostro fratello dal canada lì c'è il mio amico dr bie da kinshasa e da lubumbashi qui i nostri amici dall'olanda dio vi benedica sì possa dio benedirvi fratello un bie ti chiedo di venire qui davanti sì dio vi benedica dio vi benedica è così bello potete sedervi cosa possiamo dire semplicemente che dio rende vera la sua parola e la conferma qui c'è il nostro fratello che ho incontrato 36 anni fa io l'ho chiuso nel mio cuore ed egli è stato usato da dio come primizia in questa immensa nazione in quel tempo non era congo oggi è la repubblica del congo egli è stato usato insieme a suo cognato un avvocato e le porte si sono aperte in tutta la nazione e in tutta l'africa non c'è una nazione con così tanti credenti che credono la parola dell'ora e il nostro fratello ha una chiesa un'assemblea di 4.000 persone sì caro fratello noi siamo molto contenti che tu sei in mezzo a noi ti auguro la benedizione dio sia con te dio ti benedica amico mio tutti voi lo sapete il nostro fratello da brussel jean claude è il figlio del nostro fratello doc bie allo stesso tempo non vorremmo trascurare tutti gli altri qui abbiamo il fratello graf abbiamo diversi fratelli da varie nazioni che predicano la parola di dio il fratello gilbert da brussel e tutti fratelli da diverse nazioni specialmente dal burundi per favore alzati in piedi caro fratello dal burundi alzati un momento dio ti benedica possa dio benedire tutti i fratelli naturalmente è sempre difficile chiamare i vari fratelli e dire chi siano e cosa sono noi speriamo soltanto che ognuno si senta a casa e che tutti siano partecipi di quello che dio fa proprio ora dopo da questo posto vorremmo pure salutare tutti iniziando dall'estremo nord fino all'estremo sud da tutta l'europa dobbiamo darvi saluti saluti anche da Nairobi da Johannesburg e da varie nazioni e da vari fratelli dell'Africa come già menzionato dio ha guidato in tale maniera che la sua parola raggiunge l'estremità della terra è che gli ultimi vengono chiamati fuori per essere pronti al ritorno del nostro Signore la proclamazione che dio ci ha affidato include ogni cosa la parte evangelistica la parte dell'insegnamento e la parte profetica è proprio necessario proclamare tutto il consiglio di dio particolarmente in questo tempo noi abbiamo bisogno dell'orientamento della parola della profezia naturalmente tutti noi abbiamo compreso quello che ha predetto il nostro Signore nel profeta Daniele e naturalmente anche nel Nuovo Testamento noi abbiamo menzionato continuamente sia Matteo capitolo 24 sia Marco capitolo 13 oppure Luca capitolo 21 dovunque è descritto il tempo della fine sia primo Timotio capitolo 4 sia seconda Timotio capitolo 3 sia seconda Pietro capitolo 3 dovunque si parla del tempo della fine e cosa sarebbe accaduto nel tempo della fine e dopo il ponte con il libro dell'Apocalisse che dio ha dato come ultimo per farci vedere quello che sarebbe accaduto alla fine e se si vuole parlare con Daniele capitolo 2 verso 40 e Daniele capitolo 7 verso 23 se si fa il paragone con quello che l'ultima potenza mondiale verrebbe all'esistenza che governerebbe su tutta la terra e tutti noi lo notiamo ora tutte le religioni tutti i politici tutta l'economia ogni cosa si unisce ora e ci si dovrebbe realmente meravigliare persino le banche sono in crisi ora chi si sarebbe aspettato questo che le banche avrebbero avuto una crisi la domanda è solo dov'è il denaro il calcolo è realmente che più di 900 miliardi di dollari che se ne sono andati da qualche parte tuttavia ciò appartiene al tempo della fine la perplessità sarebbe stata qui così è scritto ogni cosa che accade ora era stata predetta in anticipo anche chi avrebbe avuto una parola in merito chi avrebbe governato chi sarebbe stato colui al quale tutti i capi di stato avrebbero guardato che ha l'ultima parola tutti noi l'abbiamo testimoniato e speriamo che tutto il mondo non ascolti ora tuttavia quando benedetto sedicesimo ha visitato gli stati uniti d'america per sei giorni è stata fatta un'intervista e al signor Bush è stato chiesto chi vede lei quando guarda negli occhi del papa e la sua risposta è stata proprio come un colpo di pistola la sua risposta io vedo Dio questa è stata naturalmente una risposta che nessuno di noi si sarebbe aspettato perché in Giovanni capitolo 14 è scritto e le parole provengono dal labbra del nostro signore chi vede me vede il padre c'è solo uno vede a dire la rivelazione di Dio in carne Gesù Cristo il nostro signore solo lui poteva dire chi vede me vede il padre tuttavia ogni cosa ha preso il suo corso ora e l'importante è che non distogliamo lo sguardo ma che realmente guardiamo attentamente tutti voi lo sapete se ti parla del terzo Reich allora i commentatori dicono che molti guardarono da un'altra parte molti distolzero lo sguardo è perché distolsero lo sguardo e in proluogo perché non avevano voce in capitolo e secondariamente perché non avevano il coraggio per favore non distogliete lo sguardo ma osservate attentamente cosa accade ora come l'unione è in processo ora facendo progressi ed anche il signor Bush ha detto che egli vorrebbe terminare la sua presidenza vorrebbe essere coronato con un successo con la divisione di Israele in uno stato palestinese e uno ebraico tutti noi abbiamo menzionato e sappiamo quello che dice la saga scrittura al riguardo Gioele capitolo 3 verso 2 che Dio giudicherà coloro che dividono la sua terra tuttavia affinché la scrittura possa essere adempiuta e Dio possa giudicarli perciò tutto questo deve accadere ma con questo oggi non vogliamo andare nei dettagli per noi si tratta realmente del messaggio divino ed affinché ognuno possa saperlo ora in Germania abbiamo la possibilità di mettere un annuncio per introdurre il ministero del fratello Brana ed abbiamo messo la sua foto è una vecchia foto una bella foto che abbiamo scelto ed anche una riunione del 1948 con circa 15.000 persone abbiamo messo la foto là per mostrare alla nostra nazione per mostrare al presidente e a chi riceverà questa rivista per mostrare loro quello che Dio ha fatto nel nostro tempo il titolo è indietro alla chiesa primitiva quando il mondo non aveva sentito nulla di Billy Graham Oral Roberts Tommy Osborne ed altri evangelisti quando il mondo non aveva sentito nulla di loro allora migliaia di persone hanno sperimentato tramite il ministero di William Brana la loro conversione e la guarigione il passo successivo dice egli ha predicato senza fare compromessi la vera e basilare dottrina della Bibbia in merito alla Deità il Battesimo la cena del Signore e così via come gli apostoli facevano al principio così ci è stato lasciato nella Bibbia Dio ha confermato il suo incarico tramite straordinari segni e prodigi ed egli ha fatto la breccia per il più grande risveglio di guarigione di ogni tempo dopo il passo successivo è stato l'inizio di un rinnovamento spirituale che ora prima del ritorno di Gesù Cristo che ora ci riporta indietro nella pratica e nella dottrina indietro alla Chiesa Primitiva proprio prima del suo compimento e dopo l'affermazione se volete conoscere di più per favore rivolgetevi a noi e dopo vengono tutti i collegamenti telefono email sito web è indirizzo di posta noi vorremmo che la testimonianza di Dio è quello che il Signore ha fatto arrivi alla gente è quello che è stato fatto con ciò che le persone possono decidere da sé stessi e prendersi la responsabilità la nostra responsabilità è di non nascondere ciò ma di dire a tutta l'umanità che il ritorno di Gesù Cristo è vicino noi siamo in una epoca profetica le profezie della Bibbia vengono adempiute davanti ai nostri propri occhi i segni del tempo della fine possono essere visti e perciò poiché abbiamo la responsabilità in merito a questo di portare l'ultimo messaggio divino il pieno Vangelo tutto il consiglio di Dio di predicarlo perciò dobbiamo essere trovati fedeli in questo e la parola del Signore deve essere portata in tale maniera come i nostri fratelli e le sorelle hanno fatto all'inizio come essi l'hanno udito come hanno ubbidito come hanno creduto il nostro compito è duplice e vorrei che anche i nostri fratelli e le sorelle in Cile le telefonate che ho ricevuto che essi condividono con noi la gioia ci sono due aree principali una è di restaurare tutte le cose vale a dire tutte le interpretazioni della scrittura catalogarle come inutili e insignificanti e nella stessa maniera dichiarare e proclamare che Dio è responsabile soltanto per la sua parola e che ogni interpretazione della scrittura ha quale conseguenza il giudizio perché Dio conferma solo la sua parola ed ogni interpretazione ci trascina lontano dalla parola la seconda cosa è che dentro il messaggio tutte le dottrine che non hanno un fondamento biblico dichiararle come inutili e insignificanti che ogni cosa che crediamo e che insegniamo deve essere nella sacra scrittura altrimenti altrimenti dopo sì dopo Dio è solo nella sua parola ora io non posso andare nei dettagli ma nella stessa maniera come tutti i padri della chiesa hanno interpretato la parola fino al punto che la parola non è stata più trovata ma sono rimaste soltanto le interpretazioni e là si potrebbe realmente dire con una sacra ira con quale diritto le persone vengono sedotte e le interpretazioni sono forzate su di loro e il risultato è stato che la parola non è stata più ascoltata non poteva essere più vista non si è più ubbidito ad essa ma solo le interpretazioni nella stessa maniera ciò accade ora nel messaggio questo fa male il primo fa male come l'altro e l'altro fa male come il primo con che diritto le citazioni vengono prese fuori dal contesto in merito al soggetto dei sette tuoni e dei principali soggetti ed ecco sempre riferendosi al profeta ma neanche una sola volta riferendosi alla sacra scrittura e e lì finisce il divertimento lì la cosa diventa seria si riferiscono sempre al tuttavia non si riferiscono mai alla sacra scrittura e dopo deve essere detto a tutti i fratelli deve essere detto che tutti quelli che vanno fuori strada e tutti quelli che conducono altri fuori strada in tutta chiarezza deve essere detto loro chiunque non si riferisce alla sacra scrittura e lì su due o tre testimonianze chiunque non si riferisce ad essa dovrà sostenere il giudizio della parola poiché cielo e terra passeranno ma la parola di Dio dimora in eterno tutte le interpretazioni passeranno e dopo la cosa diventa molto seria persino una parola scivolata dalla lingua scivolata dalla lingua e dichiarata come una rivelazione io potrei darvi qualche esempio ora probabilmente dovrei dirlo in una lettera circolare tuttavia se per esempio il fratello Brana dice il settimo suggello è Apocalisse capitolo 10 nel suo adempimento allora io devo dire che il settimo suggello è in Apocalisse capitolo 8 e là è descritto certe volte egli ha persino sbagliato il capitolo persino i versi e da ciò dovrei farne una dottrina non ci penso nemmeno io apro il capitolo 8 e leggo e trovo dove è scritto non voglio dilungarmi su questo tuttavia è il mio compito il mio compito è di prendere posizione per la vera proclamazione della parola e per la vera proclamazione del messaggio divino e rimarrà così fino alla fine il venerdì santo è passato la Pasqua è passata l'ascensione è dietro di noi Pentecoste è davanti a noi abbiamo bisogno di guardare nella scrittura cosa è realmente accaduto il fratello Smith ha già letto una meravigliosa parola in ebrei capitolo 2 che il nostro Signore nel suo corpo di carne doveva essere come i suoi fratelli per distruggere colui che ha l'impero sulla morte e liberare tutti quelli che hanno tenuti nel timore della morte fratelli e sorelle preziosi amici il nocciolo della predicazione del Vangelo è che Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso nessuna via conduce al di fuori di Gesù Cristo tranne per chi prende la via larga che conduce alla perdizione dunque il nocciolo della programmazione è che noi siamo stati redenti l'espiazione ha avuto luogo il sangue dell'agnello è stato sparso e con il sangue dell'agnello il nostro Signore è entrato nel luogo Santissimo per ottenere per noi una redenzione eterna una redenzione eterna così è scritto per ottenerla per noi per mezzo della sua grazia ricevetelo per fede una volta per tutte certe volte ho l'impressione cari fratelli e sorelle che noi iniziamo continuamente e non riusciamo a trovare pace con Dio ad avere la certezza della fede io sono redento sono riconciliato con Dio i miei peccati sono perdonati il mio peccato è stato cancellato sono passato dalla morte alla vita e dopo dopo il venerdì santo venne la Pasqua tutti noi possiamo leggerlo nei Vangeli in che modo meraviglioso il risorto Signore rivelò se stesso ai suoi e dopo viene la prima domanda si è rivelato Egli a me si è rivelato a voi nella sua potenza di risurrezione perché questo è il punto per tutti quelli per i quali Egli ha dato la sua vita sulla croce del Calvario a loro Egli rivela se stesso dopo Egli li chiama a seguirlo essi diventano sua proprietà sono predestinati a diventare figli e figli di Dio Pasqua è stato il coronamento dell'opera compiuta di redenzione il nostro Signore risuscitò il terzo giorno c'è solo una scrittura che dice dopo tre giorni e questo è Matteo capitolo 27 verso 63 ma non lo dissero i discepoli non lo disse il Signore ma gli scribbi e i farisei dissero questo seduttore diceva che sarebbe risuscitato il terzo giorno si venne dalla bocca degli scribbi e dei farisei dopo tre giorni il nostro Signore ha sempre detto il terzo giorno ed anche questo è molto importante perché ci sono fratelli che osservano il sabato e dopo essi pensano che ci sia qualcosa di sbagliato con i tre giorni i tre giorni sono esatti ma se è giusto con il pensiero della gente questa è la seconda domanda tuttavia io non so se dobbiamo andare in tutti questi dettagli in ogni caso è scritto che il nostro Signore risuscitò la mattina di buon'ora del primo giorno della settimana ecco come è scritto ed ecco come noi crediamo Marco capitolo 16 leggo soltanto un verso Marco capitolo 16 verso 9 ora Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima a Maria Maddalena dalla quale aveva scacciato sette demoni chi vorrebbe osservare il sabato ritorna indietro a questa scrittura e dice ah il sabato termina la sera con il tramonto quando fa buio allora inizia un nuovo giorno tuttavia qui dice la mattina di buon'ora la mattina di buon'ora ed è così che rimane dico questo ora perché tali scritture diventano una contesa e le persone non è nulla di meglio da fare di combattere e argomentare in merito a certe scritture invece di predicare il Vangelo di Gesù Cristo ed enfatizzare la risurrezione quale trionfo dell'opera di redenzione che è avvenuta sulla croce del Calvario dunque la croce la crocifissione del venerdì santo ha avuto il suo posto la Pasqua ha avuto il suo posto l'ascensione ha avuto il suo posto perciò è scritto in Luca capitolo 24 Luca capitolo 24 vado a dire sì negli ultimi versi versi 50 e 51 poi li condusse fuori fino a Betania e alzate in alto le mani li benedisse e avvenne che mentre egli li benediceva si separò da loro e fu portato su nel cielo cosa farò con dei fratelli che mi accusano di non credere che il Signore sia già venuto cosa farò con quei fratelli essi mi accusano che io non credo che il Signore sia venuto e sapete perché? perché il fratello Branham realmente una volta sola e gli disse in riferimento ad Apocalisse capitolo 10 l'angelo della settima chiesa è sulla terra al tempo di questa venuta l'ha detto il fratello Branham e dopo essi costruiscono una dottrina su ciò e dicono dunque allora il Signore deve essere venuto nel periodo di vita del suo servitore e profeta e non hanno abbastanza intendimento per capire che Apocalisse capitolo 10 non ha nulla a che fare con il ritorno di Gesù Cristo ma dopo lì il Signore non viene come sposo ma viene come angelo del patto e mette un piede sul mare e uno sulla terra e giura per colui che vive in eterno che vorrebbe conoscere in merito il ritorno di Gesù Cristo che noi aspettiamo ma naturalmente non aspettiamo Apocalisse capitolo 10 no io aspetto Matteo capitolo 25 primo testo non cese capitolo 4 e tutte le altre scritture che parlano del ritorno di Gesù Cristo vedete in quel momento quando ritorniamo indietro alla parola allora arriva la risposta biblica chiunque non ritorna indietro alla parola sì cosa dirò egli è in pericolo di andare fuori strada egli realmente va fuori strada con le citazioni perché non ha compreso in quale collegamento appartengono queste scritture o queste citazioni e perciò Giacomo ha pure scritto non siate in molti a fare da maestri realmente deve essere dato un accesso di vino e ciò avviene soltanto tramite rivelazione e la rivelazione non pende mai in aria la rivelazione è sempre fondata sulla parola di Dio dunque non abbiamo realmente il compito di non esporre soltanto tutte le interpretazioni errate della Sacra Scrittura non soltanto correggerle ma anche tutte le deviazioni dentro il messaggio devono essere corrette e realmente fa male ed ancora fa male quello che viene fatto del messaggio divino nessuno può comprenderlo in merita questo soggetto ora in atti capitolo 1 atti capitolo 1 verso 11 uomini galilei perché state a guardare verso il cielo questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo e dopo possiamo leggere tutte le altre scritture su cosa accadrà dopo quando il Signore ritornerà non è detto nulla di un libro aperto nulla di un piede messo sul mare e uno sulla terra nulla in merito ai sette tuoni ma i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi viventi saremo mutati e insieme saremo rapiti per essere sincero ciò fa male tuttavia veniamo ora alla fine con questi tre termini fino a Pentecoste redenzione noi ricordiamo specialmente il venerdì santo in ogni sermone noi ricordiamo la Pasqua la risurrezione del nostro Signore la vittoria su Satana sulla morte e su ogni cosa Dio ci ha dato piena redenzione per mezzo della sua grazia l'ascensione è una conferma che noi quando giunge il nostro tempo saremo presi su e insieme con Lui entreremo nella sua gloria e come ho detto molte volte la sua risurrezione è la garanzia per la nostra risurrezione la sua ascensione è la garanzia per la nostra ascensione la redenzione è reale il piano di salvezza sarà adempiuto fino all'ultimo punto e avremo la grazia di essere partecipi di ciò quel che è stato pure menzionato e pentecoste il rivestimento con la potenza dall'alto come la chiesa primitiva lo ricevette da Dio rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto ecco io vi mando la promessa del padre e dopo anche nel libro degli atti capitolo 1 Giovanni battezzò con acqua ma voi così è scritto Giovanni capitolo 1 verso 5 Giovanni battezzò con acqua ma voi sarete battezzati con lo spirito santo fra non molti giorni e dopo dice nel verso 8 ma voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi la potenza dello spirito santo deve venire sopra la chiesa affinché il ministero e la proclamazione siano confermati e che realmente le persone che vengono sotto le cheggiare della parola di Dio possano sperimentare il Signore oggi è il mio desiderio interiore la mia brama che ognuno specialmente tutti i giovani i giovani che non hanno ancora sperimentato una conversione che non hanno ancora invocato il nome del Signore che possa accadere oggi secondo la scrittura chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato e dopo nella stessa maniera come secondo passo chi crede ed è battezzato sarà salvato una conversione a Cristo che non include soltanto la fede ma che include anche l'ubbidienza e tutti noi abbiamo compreso ciò che l'incredulità e la disubbidienza hanno causato iniziando dal giardino dell'Eden fino ad oggi fede e ubbidienza formano un vero figlio di Dio ora giusto per menzionare questo in tutte le grandi chiese in realtà non voglio menzionare i nomi in tutte le grandi chiese ogni cosa è diventata differente sia il culto a Maria sia tutti gli altri culti sia come lo chiamano le immagini tutti questi cosiddetti santi che vengono esposti la Sacra Scrittura dice non ti fare immagine delle cose che sono in cielo né delle cose che sono sulla terra e Maria in Atti capitolo 1 è menzionata per l'ultima volta e dopo non più non più e come potrebbe accadere ora che tutto il mondo loda a un uomo in una chiesa dove l'adorazione non è per il nostro Signore Gesù Cristo e ve li è tenuti in mano come morto e Maria è glorificata ed anche tutti i santi sono glorificati e dopo dobbiamo dire con dolore nulla e ancora nulla è biblico tutto è stato cambiato tutto fondamentalmente tutto allora in realtà il dolore è grande si potrebbero mostrare delle foto e se dopo viene detto che nel 2017 è l'anniversario 500 anni e dopo la riforma avrà la sua fine e tutti ritorneranno nel grembo della chiesa romana la chiesa di Gesù Cristo sarà chiamata fuori prima di quello essa deve essere chiamata fuori questo è il messaggio dell'ora e Dio ha dato il ministero del fratello Brana questo ministero straordinario che nessun altro profeta ha avuto realmente non l'ha avuto Mosè non l'ha avuto Abramo non l'ha avuto Elia non l'ha avuto Paolo non l'ha avuto Pietro non l'ha avuto non c'è stato un uomo di Dio che abbia avuto un simile ministero come lui come il fratello Brana come gli è stato dato non l'abbiamo detto molte volte qui ed egli stesso si riferisce a Genesi capitolo 17 a Genesi capitolo 18 e in primo luogo il Signore diede la promessa ad Abramo la diede in generale la seconda volta il Signore venne e disse l'anno prossimo in questo tempo Sara avrà un figlio e in primo luogo e il fratello Brana l'ha detto molte volte a 75 anni gli fu data la promessa e dopo venne il tempo dell'adempimento ed ecco fra un anno in questo tempo diventerà una realtà e dopo il fratello Brana mi dice il Signore girò le spalle alla tenda in cui c'era Sara guardò Abramo e disse perché Sara ha riso persino i pensieri del cuore furono rivelati e questo il nostro Signore come figlio dell'uomo come profeta l'ha confermato perché Mosè disse il Signore Dio vi susciterà un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli ascoltatelo in tutto quello che Egli vi dirà ed ogni anima che non ascolterà quel profeta sarà recisa di mezzo al popolo Gesù Cristo era il figlio di Dio era figlio di Davide era figlio dell'uomo figlio di Abramo come figlio dell'uomo Egli era profeta anche questo l'abbiamo detto ripetutamente quando il nostro Signore camminava sulla terra Egli non doveva chiedere ad alcuno Egli poteva dire ad ognuno chi fosse da dove veniva voi potete leggerlo nei Vangeli specialmente nell'Evangelo di Giovanni capitolo 1 e capitolo 4 e tutte le altre scritture e lo stesso ministero si è ripetuto nel nostro tempo ma non solo per dare un potente risveglio di guarigione è stato il precursore si appartiene a ciò si ma dopo deve seguire il messaggio cos'è stato con il nostro Signore e in primo luogo tutti i grandi miracoli di guarigione migliaia venivano alle riunioni migliaia vennero e furono guariti la moltiplicazione dei pani la tempesta sedata accadevano segni e prodigi ma dopo quando Egli venne alla parola e quando portò il messaggio allora lo lasciarono uno dopo l'altro ed Egli chiese ai Suoi discepoli volete lasciarmi anche voi ora per enfatizzarlo realmente io l'ho testimoniato personalmente in quegli anni come il fratello Brana disse alla gente tedesca 8000 persone che osservavano ed Egli poteva dire sorella tu vieni da Hamburgo fratello tu vieni da Berlino quella coppia voi venite dalla Svizia io ero seduto là l'ho udito giorno dopo giorno l'ho sperimentato l'ho testimoniato questo ministero infallibile che Dio ha dato per attirare la nostra attenzione al messaggio divino ed essere riportati indietro alla parola in modo che alla fine la sposa e lo sposo possano essere d'accordo e che realmente possiamo credere come dice la scrittura affinché non usciamo soltanto fuori da Babilonia ma che Babilonia esca fuori da noi e che realmente nel profondo interiore siamo rinnovati ricevendo la nuova vita da Dio come scritto se uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove domenica scorsa a Zurigo abbiamo speso un paio di minuti per tradurre da un sermone del fratello Brano vale a dire il testo era in Genesi capitolo 15 e lì ci viene raccontata la storia di Abramo e Lot e ciò che è accaduto là nel verso 1 non temere o Abramo io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima tutti noi conosciamo questo testo e dopo dopo venne il giorno della separazione il giorno della separazione se tu vai a sinistra io vado a destra se tu vai a destra io vado a sinistra cosa voglio dire con questo anche noi eravamo da qualche parte e dopo è giunto il momento della promessa è la promessa che ricevette Abramo non la ricevette Lot comunque è in Genesi capitolo 13 per favore perdonatemi tuttavia vediamo la lezione che ci è data qui Abramo ebbe la chiamata ecco la chiamata e gli ebbe la promessa e con la promessa venne in possesso del paese che Dio gli aveva dato Lot andò semplicemente con lui e dopo venne la separazione vuoi andare a sinistra allora io andrò a destra fratelli e sorelle soltanto chi ha ricevuto la promessa di Dio chi l'ha ricevuta realmente prenderà la sua decisione e camminerà lungo la via con il Signore finché vedremo adempiersi la promessa cosa poteva fare Lot con la promessa che aveva ricevuto Abramo cosa poteva fare con essa la promessa di Dio è in primo luogo in generale è secondariamente è davvero personale in generale è scritto nella parola di Dio è personalmente indirizzato a quelli che la ricevono e la credono per avere parte nel suo adempimento se noi ritorniamo ora indietro al principio al nostro soggetto principale così il nostro Signore tramite la risurrezione ha dato la conferma perché egli ha rivelato se stesso ai suoi come il vivente in primo luogo essi ebbero difficoltà a credere ma dopo egli disse toccatemi sono io e secondo Luca capitolo 24 essi lo toccarono e dopo anche Tommaso nel Vangelo di Giovanni ciò può essere letto egli mise la mano nel suo costato e gridò mio Signore è mio Dio quello che voglio enfatizzare qui è che ognuno di noi ha bisogno di questa esperienza con il risorto Signore e Dio lo dico ancora una volta tutti quelli che sono stati redenti alla croce del Calvario a loro il Signore rivelerà se stesso egli li chiamerà dichiarerà le sue promesse ed essi lo serviranno e ubbidiranno a lui in primo Corinzi capitolo 15 noi abbiamo naturalmente la conferma che Paolo ha scritto Paolo ha pure testimoniato del risorto Signore come gli ha testimoniato ciò primo Corinzi capitolo 15 dal verso 3 e infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche io ricevuto e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e qui voglio dire di nuovo se oggi ci sono amici in mezzo a noi che non sono ancora arrivati a questa fede vivente che non hanno ancora ricevuto la redenzione io vi chiedo vi imploro al posto di Cristo siate riconciliati con Dio non rigettate l'offerta di grazia di Dio la redenzione naturalmente tramite la risurrezione è stata confermata è stato il coronamento dell'opera compiuta di redenzione Cristo è morto per i miei per i nostri peccati secondo le scritture e qui possiamo andare in tutti i passi nell'antico testamento dove la redenzione dove il perdono dove la grazia e la salvezza sono state annunciate per sapere quante scritture sono state impiute in quel tempo perciò al plurale secondo le scritture perché ci sono molte scritture nel verso 4 dice che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture sempre secondo le scritture tutto tutto ciò che è accaduto con il nostro redentore con Cristo è accaduto secondo le scritture tutto ciò che accade con la chiesa accade secondo le scritture e chiunque nella volontà di Dio è nelle scritture e chiunque nelle scritture sarà pure nella volontà di Dio al riguardo la meravigliosa scrittura di Giovanni capitolo 4 verso 34 Giovanni capitolo 4 verso 34 che potrebbe essere menzionato e letto in ogni riunione qui dice Giovanni capitolo 4 verso 34 Gesù disse loro il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua anche per noi fratelli e sorelle non ci sarà d'aiuto specialmente diretto a tutti i fratelli nel ministero se si parla soltanto riguarda ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 24 versi 45 e 46 del cibo a tempo debito che sarà distribuito se con la distribuzione del cibo non è collegata la proclamazione della parola di Dio che ci rivela la volontà di Dio una proclamazione che non ci rivela la volontà di Dio oggi possiamo dimenticarla il nostro Signore dice il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato dunque il cibo la parola di Dio poiché l'uomo non vivrà soltanto di pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio e poi diventiamo facitori della parola allora non ci troviamo fuori della parola ma dentro la parola e dopo la parola è in noi e noi siamo nella parola e allora anche noi sperimenteremo il compimento dell'operato di Dio poiché questo qui è il contesto divino vale a dire il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua noi crediamo io sono convinto che Dio nel nostro tempo completerà la sua opera di redenzione ed anche questo potrebbe essere detto continuamente noi viviamo alla fine del tempo della grazia e se può essere enfatizzato di nuovo la correzione deve essere fatta affinché non si presti orecchio a nessuna interpretazione della parola e nessuna interpretazione delle citazioni del fratello Brana ma che tutti prestino orecchio a quello che lo spirito dice alle chiese e lo troviamo confermato nella parola di Dio deve essere sempre secondo la scrittura lasciate che lo diciamo e il ministero del fratello Brana era secondo la scrittura e il messaggio che egli ha portato era secondo la scrittura e se dopo certi punti sono presi fuori dal contesto e poi sono edificate dottrine su ciò allora dobbiamo dire che questo l'ha fatto il nemico e come il nemico venne dal nostro signore con la parola di Dio per farlo cadere così il nemico è venuto pure con le scritture da tutti i teologi fino a questo giorno e così come egli viene da tutti quelli che siedono sulla cattedra di Mosè o sulla cattedra del profeta comunque non c'è l'intendimento che viene da Dio in quello che loro insegnano ora siamo sinceri se la Bibbia dice in Apocalisse capitolo 10 a Giovanni fu detto direttamente dal cielo gli fu comandato nel capitolo 1 scrivi tutto quello che hai visto e mandalo alle sette chiese scrivi tutto quello che hai visto e mandalo alle sette chiese e dopo all'improvviso in Apocalisse capitolo 10 la voce viene dal cielo non scrivere quello che hanno proferito i sette tuoni perché è suggellato non dobbiamo toglierci le scarpe ora e dire siamo entrati in un terreno santo non dovremmo ringraziare Dio che ci ha dato la fede come dice la scrittura se la voce gli disse non scrivere ciò che hanno proferito i sette tuoni ma suggellalo ciò va bene allora io dico Amen si dico semplicemente Amen dovrei io interpretarlo naturalmente non sono il nemico il nemico interpreta e tutti quelli che sono sotto l'ispirazione del nemico essi propagano le interpretazioni e portano confusione una divisione dopo l'altra nel corpo del Signore dovreste soltanto ascoltare quello che va avanti in tutto il mondo in mezzo a quelli che si riferiscono al fratello Branham e al messaggio del tempo della fine fratelli e sorelle io dico ancora una volta forse non lo dirò di nuovo così presto noi siamo ordinati a confrontare ogni cosa con la scrittura e predicare soltanto e proclamare quello che noi possiamo predicare dalle scritture e il fratello Bran stesso disse il mio assoluto è la Sacra Scrittura sono solo fraintendimenti che hanno condotto al punto che sono sorte tutte le varie direzioni ora prima di concludere vorrei andare in Romani capitolo 8 Romani capitolo 8 per avere davanti a noi ed io spero che tutti i fratelli e le sorelle intorno al mondo abbiano timore di Dio davanti la sua parola spero che non l'abbiano perduto e chiunque l'abbia perso possa il Signore ridargli il timore di Dio soltanto allora soltanto se abbiamo timore di Dio davanti la sua parola allora egli parlerà con noi ed ogni parola noi dobbiamo rispettarla per come ci è stata lasciata ma ora la consolazione la straordinaria e potente parola indirizzata a tutti i credenti Romani capitolo 8 dal verso 28 una parola ben conosciuta noi sappiamo che tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio devo dirvi che la nostra posizione nella parola è diventata più ferma più ferma da quando hanno preso il loro corso tutte le interpretazioni le interpretazioni hanno fatto in modo che noi investigassimo di più le scritture e stessimo fermi in esse in realtà io non ne avevo bisogno ma forse altri ne avevano bisogno dopo dice i quali sono chiamati secondo il suo proponimento come è meraviglioso verso 29 poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché affinché egli sia il primo genito fra molti fratelli il fratello smith c'è letto la parola in ebrei capitolo 2 egli è diventato come noi qui leggiamo predestinati predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio questo è il compimento del piano di salvezza del nostro dio completi come figli e figlie al cospetto del nostro signore e per tutte le eternità saremo uniti con lui e dopo nel verso 30 ci viene detto e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati egli sapeva chi avrebbe camminato nella via in fede e ubbidienza fino alla fine egli lo sapeva ed ora siamo sinceri non possiamo dire pure nessuno può separarci dall'amore di dio che è in cristo gesù il nostro signore e dopo dice nel verso 33 chi accuserà gli eletti di dio dio è colui che li giustifica verso 34 chi è colui che li condannerà chi giustificati una volta per tutte chi accuserà gli eletti di dio eletti predestinati prima della fondazione del mondo nessuno può cambiarlo e dio non vuole cambiarlo dopo leggiamo nel verso 35 chi ci separerà dall'amore di cristo sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada nulla realmente nulla ogni cosa ci porta più vicino al signore dunque leggiamo il verso 39 verso 39 né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di dio che è in cristo gesù nostro signore ecco come rimane per tutta l'eternità e per questo siamo veramente riconoscenti a dio nostro signore lasciate che riassumiamo di cosa si è trattato oggi e noi includiamo tutti i nostri fratelli e le sorelle dalla Finlandia tutti i paesi fino in Austria fino a Palermo noi includiamo ognuno in tutto il mondo la lezione è la seguente indietro a dio indietro alla parola in conformità con dio in conformità con la sua parola rendendo certa la nostra lezione chiamata e come Abramo mostrare come Abramo che noi crediamo la promessa e noi per fede credendo la promessa noi siamo stati giustificati Gesù Cristo era il Redentore promesso egli era stato annunciato lungo tutto l'Antico Testamento e quando il tempo fu compiuto Galati capitolo 4 dal verso 4 egli è venuto a noi nato da donna soggetto alla legge per attirarci a sé per darci l'adozione di figli per restaurarci il diritto divino e la vita eterna anche là ci sono persone che credono che l'uomo per natura ha un'anima immortale se l'uomo avesse un'anima immortale allora non sarebbe affatto necessaria una conversione allora si potrebbe vivere automaticamente in eterno ma la scrittura dice chi ha il figlio di Dio ha vita eterna e chi non ha il figlio di Dio non ha la vita e dopo ci sono le numerose scritture che potrebbero essere lette con ogni dottrina non biblica alcune scritture vengono tralasciate e vengono trasmesse le interpretazioni noi crediamo come è già stato detto noi crediamo che solo chi ha ricevuto il figlio di Dio ha la garanzia della vita eterna c'è una continuazione della vita dopo la morte ma come è scritto nel libro dell'Apocalisse egli non vedrà la seconda morte è come scritto in Apocalisse capitolo 20 questa è la morte seconda la prima morte è la morte naturale la seconda morte è la morte spirituale ed ogni cosa ritorna alla sua origine è soltanto chi ha ricevuto vita eterna tramite la fede in Gesù Cristo egli può e vivrà in eterno poiché così è scritto chiunque non fu trovato nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco Apocalisse capitolo 20 dal verso 1 perciò deve essere detto a tutti chiaramente con tutto il nostro cuore deve essere detto loro per favore non rischiate per favore non fatelo per favore credete in Gesù Cristo e come scritto a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome dunque indietro nella piena conformità con la parola e con la volontà di Dio ed ancora una volta lasciate che sia enfatizzato forse esagero non lo so tuttavia dico ora che sulla terra non c'è uomo non ci può essere uomo che abbia testimoniato il ministero del fratello Brana per dieci anni che possa stimarlo e amarlo più del fratello Frank e perché perché il mio ministero è collegato direttamente con il suo ministero sin dall'inizio e rimane collegato e queste non sono parole in aria l'ho scritto nella lettera circolare nel 1933 era una promessa come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo ed ecco che dopo la dipartita del fratello Brana il messaggio è stato portato in tutto il mondo e noi ringraziamo Dio che ora anche da questo luogo può essere ascoltato in tutto il mondo io non glorifico il fratello Brana ma so che egli era il profeta promesso che doveva venire e che è venuto prima che venga il grande e terribile giorno del Signore ed io so che attraverso il suo ministero il cuore dei figli di Dio è stato rivolto indietro alla fede dei padri dunque indietro al principio siamo stati riportati indietro e per questo motivo oso dire che non può esserci un fratello sulla terra che possa stimare il fratello Brana il messaggio e il suo ministero che possa stimarlo più di me e questo con tutto il mio cuore è con tutta la mia anima e non posso andare ora in tutte le esperienze che sono seguite naturalmente voi le conoscete ma noi non siamo qui nel nostro proprio nome noi siamo qui nel nome del Signore Gesù Cristo e siamo qui a difesa della parola di Dio a difesa del messaggio dell'ora e noi dichiariamo che solo Dio e la sua parola rimangono per sempre e tutte le interpretazioni troveranno la loro fine noi quale Chiesa di Gesù Cristo noi alla fine del tempo della grazia possiamo testimoniare quello che Dio fa proprio ora e possiamo avere parte in ciò finché passeremo dal credere al vedere e perciò qualsiasi cosa possa accadere nulla ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore e l'amore di Dio è l'amore per la verità e la verità rende liberi l'errore fa rimanere legati l'errore conduce fuori strada la verità rende liberi la verità divina di Dio la santa parola rende liberi ora a tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra noi vi auguriamo coraggio e forza di dimorare nella parola noi auguriamo loro la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo auguriamo loro il rispetto verso la parola di Dio e l'accesso per mezzo dello Spirito Santo in tutta la verità della parola alla stessa maniera auguriamo a tutti i fratelli e a tutte le sorelle in ogni popolo lingua e nazione come abbiamo cantato verranno dall'est e dall'ovest verranno dal nord e dal sud ed essi vengono e la tavola sarà preparata l'edificio sarà pieno sì il numero sarà completo al ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore possa esserci mostrato chiaramente da Dio che genere di grazia ci è stata concessa innanzitutto che possiamo vivere ora e secondariamente che abbiamo sperimentato la grazia di Dio personalmente che siamo diventati credenti biblici che Dio ha aperto le nostre orecchie e il nostro intendimento per la scrittura siamo sinceri senza l'apertura del nostro intendimento per la scrittura non ci sarebbe stato alcuno che avrebbe compreso soltanto se il Signore apre il nostro intendimento per la scrittura è perciò scritto in Luca capitolo 24 ed egli aprì loro la mente per intendere le scritture perché egli presentò tutto quello che era scritto nei libri di Mosè nei salmi nei profeti tutto ciò che era scritto l'ha oggi e gli fa la stessa cosa e il Signore ci guida lungo tutta la sacra scrittura attraverso l'antico e il nuovo testamento attraverso i Vangeli attraverso il libro degli atti attraverso le epistole fino al libro dell'apocalisse capitolo 22 siamo sinceri ora soltanto lui ci ha fatto grazia soltanto lui ci ha aperto la mente per intendere le scritture soltanto lui ci ha dato la rivelazione per mezzo della sua grazia e per questo vorremmo ringraziarlo ora ora vorremmo ringraziarlo con tutto il nostro cuore Dio ci benedica tutti e sia con noi amè alziamoci in piedi e ringraziamoli insieme per favore come scritto in atti capitolo 4 ed anche nell'ultimo capitolo della lettera ai romani e si alzarono con cordi la voce lasciate che ora con riconoscenza ringraziamolo per l'opera di redenzione ringraziamolo per la grazia per il perdono per la riconciliazione per la piena salvezza per la parola per ogni cosa che Dio ci ha dato ringraziamolo con tutto il nostro cuore facciamolo ora insieme caro Signore Dio sempre fedele noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua santa parola per la tua grazia per l'elezione per la predestinazione per la tua parola che tu ci hai rivelato caro Signore benedici il tuo popolo il tuo greggio riscattato con il sangue fai un miracolo di grazia conferma la tua parola salva chi è perduto guarisci quelli che sono ammalati riporta indietro quelli che sono nell'errore prezio Signore tu Dio sempre fedele noi ti ringraziamo per la potenza del tuo sangue della tua parola e del tuo spirito vieni spirito del Signore non rimanere lontano da noi alleluia 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 lodi a Dio lodi a Dio oh Dio oh Dio alleluia lodi onore e gloria siano a te siano a te alleluia 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 lode onore gloria e adorazione alleluia alleluia fratello Graff per favore vieni e prega con noi vieni preghiamo di nuovo ringraziando il Signore fedele Padre nel cielo noi ti ringraziamo per quest'ora in cui siamo radunati nella tua santa presenza Signore tu ci hai parlato in modo così chiaro ci hai rivelato la tua parola e noi vediamo che è solo la tua grazia non la nostra conoscenza non la tua conoscenza non la nostra sapienza la tua sapienza Signore che tu ci hai dato tramite la tua grazia Signore noi ti ringraziamo per la potente parola per la Pasqua per la risurrezione e che possiamo riconoscere di essere parte di questa risurrezione Signore tu l'hai fatto per noi affinché possiamo riconoscere la via che anche la nostra vita sia nascosta in Te Signore noi non troviamo le parole ma possiamo dire che ci è stata fatta grazia grazia è venuta da Te Signore io ti lodo Signore tu hai detto che completerai la tua opera tu la completerai con noi ma io ti prego togli ogni cosa da noi che reca disturbo togli ogni cosa che ci impedisce di venire a Te togli tutto ciò che chiude gli occhi perché Tu ci hai parlato e noi vogliamo risponderti tramite la nostra lode e il nostro ringraziamento tramite la nostra vita Signore io ti ringrazio per questa sacra ora in cui possiamo dire noi siamo su un terreno sacro e io ti ringrazio che come Tu hai parlato a Mosè stasera Tu parli a noi e le Tue parole compiranno ciò per cui Tu le hai mandate perché questa è la Tua opera poiché è scritto nel Vangelo di Giovanni le Tue parole le Tue parole non rimangono soltanto parole le Tue parole sono diventate realtà Signore io ti ringrazio compi in noi le Tue parole noi ti lodiamo e diamo a Te solo l'onore nel nome di Gesù Cristo alleluia 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 l'odio l'onore e gloria sia nel nome santo di Gesù alleluia alleluia stupenda grazia cantiamolo perché abbiamo tanto motivo di glorificare la Sua grazia quale numero è? è qui dentro io l'ho visto è in questo libro numero 35 grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Amen. Amen. Questo cantico potrebbe avere realmente dieci strofe. Sedetevi per favore. Voglio soltanto dire, chi ha un inno da suggerire? No, è già stato fatto e il fratello Graf l'ha suggerito, sì. E' proprio meraviglioso. Anche questo pensiero che è stato espresso, se Dio in questo luogo ci parla faccia a faccia in modo così chiaro, ci parli in modo così chiaro, se Dio ci rivela la sua parola fresca dal trono, allora questo luogo è santo. E noi siamo santificati per mezzo per mezzo della parola, santificali nella tua verità. la tua parola è la tua parola è la tua parola è la tua parola, allora la tua parola è la tua parola, allora viene adempiuta. Ecco come la nostra santificazione diventa realtà sotto la predicazione della parola di Dio, ricevendo la parola di Dio e credendola con tutto il nostro cuore. Anche questo pensiero, il pensiero della grazia, Dio rispose a Mosè, la sua richiesta era, se ho trovato grazia al tuo cospetto, allora fammi conoscere le tue vie. E Dio gli lasciò conoscere le sue vie e ai figli di Israele rivelò le sue opere. Lasciate che lo diciamo ancora una volta, noi abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Come fu detto a Maria, tu hai trovato grazia davanti a Dio. E la promessa che ti è stata data sarà adempiuta. Anche noi abbiamo trovato grazia con Dio. E le promesse che ci sono state date e che sono nostre saranno adempiute. Dio benedica tutti, sia che siano collegati ora oppure no, possa egli essere con tutti, in ogni popolo, lingua e nazione. Siete riconoscenti, dite amè. Amè. Se siete d'accordo con la proclamazione divina, e se siete d'accordo con entrambi, dite alleluia, amè. Amè. Ora, giusto un annuncio, diretto a quelli che andranno in Israele. Avete i biglietti, stasera li potete prendere in ufficio, oppure domani al tavolo della colazione. Tutti quelli che rimangono qui stanotte, non ha importanza, nel modo in cui volete. E il resto lo diremo domani, dopo la riunione. Ed io posso immaginare che tutti quelli che non possono prendere l'aereo con noi, si sentono un po' tristi. Tuttavia è così. La prossima volta sarà il vostro turno. E se non in questa Gerusalemme qui, magari in quella di sopra, nella nuova Gerusalemme. Sì. Ci alziamo in piedi per la preghiera di chiusura. Fratello Smith, prega con noi. Padre Celeste Come ti sono riconoscente Come siamo riconoscenti Come ti è riconoscente il tuo popolo Che tu ci hai dato questa meravigliosa grazia Rivelandoci la tua parola Ma persino di più Tu riveli la tua parola Riveli te stesso a noi Noi vediamo chi tu sei, Signore Ti ringraziamo così Ti chiediamo di dimorare con noi Anche questa notte davanti a noi Signore Gesù Noi aspettiamo Se ci sarà un domani Per favore parlaci di nuovo Tu ci parlerai Apri i nostri cuori Affinché possiamo ricevere La tua parola E possiamo lodarti Il Dio vivente Dimora con noi, Signore E si misericordioso con noi Si il nostro scudo E il nostro rifugio Come abbiamo cantato in questo inno Sotto le tue ali Abbiamo il rifugio Ti ringraziamo per questo Amen Cantiamo Alleluia Si lo dato Alleluia Seine Prise Alleluia 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 Seine Prise Herze Alleluia Alleluia Grazie.